Non solo una categoria, forse la più debole, dello scenario di disoccupazione che ha raggiunto il livello storico del 12,7%, ma anche un fenomeno sociologico, perché dignitosamente non vuole sussidi e non si rassegna perché vuole sentirsi ancora utile a sé e alla società. È il quadro dei lavoratori disoccupati dai 45 anni in su. Questa mattina, nella sede della Regione Marche, è stata illustrata la misura che la Giunta Spacca ha predisposto per questa fascia di popolazione, tra le più colpite dalla crisi occupazionale insieme ai giovani. 1.100.000 euro sono le risorse messe a disposizione dalla Regione nell'ambito dell'intervento Welfare to Work, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, che consentirà di effettuare tirocini di sei mesi in aziende del territorio regionale. Sono una fascia di popolazione attiva, che un tempo era protetta dal mondo imprenditoriale perché costituiva un capitale umano di esperienza e professionalità, e che ora invece trova le maggiori difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Per questo la Regione Marche ha voluto quest'azione di rilevante significato sociale, che viene gestita tra centri per l'impiego e ambiti sociali, e persegue un duplice obiettivo, venire incontro alle famiglie con tale problematica e il reinserimento lavorativo programmato. Infatti le aziende che attiveranno i percorsi dei tirocini, se decideranno di assumere questi lavoratori prima della scadenza semestrale, potranno trattenere la quota mensile di 650 euro destinata al lavoratore come incentivo all'assunzione. Con questa misura saranno attivati 280 tirocini, che prevedono un'indennità di 650 euro mensili, a lavoratori che abbiano compiuto 45 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, non percettori di ammortizzatore sociale, residenti da almeno un anno nelle Marche e con 10 anni di anzianità lavorativa. Altro requisito sarà il reddito, non superiori a 12.000 euro, attualizzabili a 18.000 secondo le modalità del bando.